Dal premio Veroli alla memoria ai concerti di due brillanti interpreti della musica italiana. L'estate verolana riparte con tre grandi eventi. Sarà l'Anfiteatro Polivalente ad ospitare il 24 giugno il premio Veroli alla memoria giunto alla quarta edizione. Il 26 giugno sarà la giovane Ilaria Cretaro ad incantare la città con la sua voce e l'8 luglio salirà sul palco Gianmarco Carroccia, l'erede ufficiale di Lucio Battisti con la presenza del maestro Mogol. Ad organizzare i tre grandi eventi l'associazione Ver Event Promotion presieduta dal giornalista Verolano Egidio Cerelli. Sono veramente tre quest'anno rispetto a quello che ogni anno è la quarta edizione. Noi lo facciamo come premio Veroli alla memoria. Invece abbiamo pensato come Ver Event Associazione Culturale di proporre anche due altri momenti particolari al Polivalente di Veroli con due concerti. Sono contento perché ho avuto a mio fianco tantissimi collaboratori ma soprattutto tanti amici che mi hanno aiutato per poter realizzare questo trio quest'anno. Ringrazio voi tutti perché siete stati numerosi come ho visto oggi qui siete tantissimi. Avete riportato indietro minimo di una ventinaia di anni quando allora organizzavo la Biennale del Ferro Battuto. Ma quest'anno si pensa anche alla solidarietà? Quest'anno è un obolo quello che diamo e chiamiamolo così perché facciamo pagare 10 euro a sera a parte Mogol perché una parte andrà in beneficenza per l'Ucraina. L'evento è stato patracinato dalla Regione Lazio, dal Comune di Veroli e dalla Proloco. Come sempre sono eventi di grande qualità, in primis il premio Veroli alla memoria che è un premio unico nel suo genere e soprattutto è un premio appunto all'impegno che tante persone hanno messo per la crescita di questa bellissima città, per aiutare i cittadini, per delle opere che restano e che fanno grande la città di Veroli. E poi quest'anno aggiunge tre eventi altrettanto importanti. Un'estate ricca di tanti eventi e soprattutto eventi di grande qualità all'insegna della tradizione verolana che unisce appunto la bellezza della nostra città con la bellezza delle offerte culturali che proponiamo alle persone che vengono a Veroli. E quindi anche quest'anno questa iniziativa ci darà la possibilità di arricchire ulteriormente il nostro cartellone estivo. Inizieremo con questi tre eventi organizzati dalla Vera Event e per questo come comune di Veroli, come delegata alla cultura, ci tengo a ringraziare il suo ideatore Gidio Cerelli perché poi ogni anno con passione si mette a disposizione della città e organizza questi eventi che sono eventi di grandissima qualità. Grazie.